Sono trascorsi 30 anni dalla prima connessione dell'Italia ad internet. Era il 30 aprile 1986 quando i primi bit online partirono dal centro per il calcolo elettronico dell'Università di Pisa alla volta della Pennsylvania. L'inizio di una storia nuova che la Camera di Commercio ha voluto celebrare al meglio con una giornata dedicata ai temi del digitale. Protagonisti loro, 300 ragazzi di 12 classi di scuole superiori pratesi che hanno partecipato all'Internet Day per festeggiare tutti insieme l'anniversario a suon di dirette streaming e linguaggi del mondo dell'Innovation Technology. Noi abbiamo voluto festeggiare questo compleanno insieme ai ragazzi, insieme ai giovani che sono sicuramente con Internet il vero futuro della nostra società. Noi abbiamo avuto questa grande possibilità di vederlo questo cambiamento e di poter assistere a tutto quello che questo cambiamento ha portato non soltanto nella vita quotidiana ma anche nelle attività delle imprese. Con i giovani cerchiamo appunto di sviluppare un percorso che li renda sempre più consapevoli di quello che è la portata, di quello che è il significato dell'utilizzo di Internet e quindi non soltanto per le sue potenzialità ma anche per un uso consapevole. Realizzato con il supporto di Union Camere e di Info Camere, l'evento ha permesso ai giovani di conoscere le infinite potenzialità del web e scoprire le nuove professioni nate con l'avvento di Internet. Le possibilità sono veramente enormi. Se noi pensiamo per esempio a quale possono essere le opportunità per le imprese attraverso l'e-commerce, tanto per farne un esempio, credo che possiamo già avere un quadro di quello che sarà per il futuro lo sviluppo e soprattutto i settori in cui puntare a investire per determinate tipologie di imprese. Cicognini-Rodari, Gramsci-Kens, Livi e Dagomari, gli istituti coinvolti. Al centro dell'incontro l'esperienza pioneristica del sistema camerale che proprio sull'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche fonda la sua storia di recente gestione per le imprese, presentandosi oggi come la punta avanzata della pubblica amministrazione digitale. Oggi le Camere di Commercio, attraverso quindi la digitalizzazione, che è uno dei filoni portanti per quanto riguarda la riforma e il futuro delle Camere, gestisce qualcosa come un database di 5 milioni e 130 mila imprese. Quindi sono dati messi a disposizione ovviamente di tutti gli operatori e attraverso il sistema della digitalizzazione sono disponibili 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana. Se facciamo un paragone a quello che invece poteva essere la gestione di questi dati, di questa mole di dati 30 anni fa, ci rendiamo subito conto di come veramente in un lasso di tempo così ridotto, così insignificante per quanto riguarda la vita dell'uomo, pensiamo alle migliaia di anni, 30 anni hanno totalmente stravolto e cambiato il mondo.